Nel cuore del Vallo di Viano, nei pressi della Certosa di Padula, nasce Maut & Grill. In un ambiente confortevole a misura di tutti, troverai servizi di lounge bar e colazione, tavola calda attrezzata per pranzi veloci, pizzeria, nonché ristorazione e grill. Potrai scegliere di degustare tra una varietà di piatti tipici del nostro apprezzato menù, a partire dai piatti a base di carne, cucinati dai nostri maestri cuochi argentini, che di certo sapranno deliziare il tuo palato, fino ad arrivare al dessert, con le eleganti e dolci prelibatezze del maestro Sal De Riso. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino a tarda sera. Vieni a trovarci, concediti una pausa relax nel nostro angolo di bontà. Siamo a Padula Scalo, in via nazionale 302 304, telefono 0975 74182, oppure 345 1698 843. Maut & Grill, un angolo di bontà nel cuore del Val di Diano. Seguici anche su Facebook. Siamo a Padula Scalo.